Allora, nozioni di teoria generale del reato. Prima di tutto, che cos'è il reato? Il reato è ogni fatto umano a cui il legislatore ricollega una sanzione penale. Questa è la definizione più ampia possibile, ma che desta anche non pochi problemi, perché questo tipo di definizione non contempla anche i principi costituzionali che girano intorno al reato, che per questo si differenzia proprio dagli illeciti amministrativi o da un illecito civile, eccetera. Intorno al reato girano i principi del carattere personale, la tassatività, la riserva di legge, tutti i principi che fanno parte del reato stesso. E perciò il reato è in realtà, in una sua definizione più esatta, è in realtà il fatto umano che aggredisce un bene giuridico che è ritenuto rilevante da un legislatore che si orienta sui principi costituzionali, è che oltretutto la misura dell'aggressione deve essere proporzionata e deve essere, l'unica difesa a questo tipo di aggressione deve essere la pena, quindi la pena è proprio ex articolo 17 del codice penale. Per cui in questa definizione, cioè quella appunto dei beni giuridici costituzionalmente orientati con la pena ispirata al principio di sussidiarietà, quindi come estrema razza del diritto penale, si riesce a capire la vera dimensione del reato. Il principio di offensività. Il principio di offensività è un principio che non è esplicitato all'interno della Costituzione, non c'è un'espressa dicitura del principio di offensività, se prendiamo qualche cosa di simile, al 25,2 magari si trova qualche cosa, si è ricondotto successivamente, però inizialmente l'unica fonte che più o meno lo esprimeva era il 49,2 letto al contrario, dove dice la punibilità è altresì esclusa, quindi è il codice penale. La punibilità è altresì esclusa quando per la inidoneità dell'azione e per l'inesistenza dell'oggetto di essa è impossibile l'evento dannoso o pericoloso. Un principio di offensività che vorrebbe essere la lettura contraria di questo comma, cioè c'è il reato solamente quando viene affeso o leso o messo in pericolo un bene giuridico costituzionalmente rilevante, non può essere letto alla stregua del 49,2 proprio perché il 49,2 secondo la Corte di Cassazione non può svolgere questo tipo di ruolo. Tanto è vero che parte la dottrina rinunciando a questo articolo, tra l'altro con cui la Corte di Cassazione in maniera veloce e liberata anch'essa, si rifanne invece ad un'interpretazione costituzionale implicita che prende in considerazione due articoli. Il 25,2, quindi il principio di legalità unito al 27,1 e 3 letti insieme, cioè la responsabilità penale è personale e le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Per cui è possibile inculpare una persona solo per fatto proprio e questo fatto proprio deve essere rimproverabile e come faccio a rimproverare qualcosa che non esiste o qualcosa che comunque non ha leso nessuno? E quindi se deve tendere alla rieducazione, deve avere senso la rieducazione. Da ciò discende che il combinato risposto del 27,1 e 3 implicitamente afferma il principio di offensività, insieme anche al 25,2. E questo è tutto sul principio di offensività. No, manca un'ultima cosa. Nel 2015 poi il legislatore inserì un'altra norma che ribadiva il principio di offensività, che è l'articolo 131 bis, un articolo pressoché inutile, però esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che è diverso dal 49,2. Niente, essenzialmente dice nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a 5 anni o la pena pecuniaria. La punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e per l'eseguità del danno e del pericolo valutate senza il 133, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Nel 49,2 c'è una totale assenza di lesività, qui c'è una tenuità del fatto come per esempio rubare un acino di uva al contadino, non può essere furto, anche se la fattispecie è quella. Poi, differenza tra delitti e contravvenzioni. Allora, la differenza tra delitti e contravvenzioni si è sempre cercata di recuperarla su un punto di vista qualitativo, ma il fallimento nell'elaborare una differenziazione dal punto di vista quantitativo ha fatto riparare la dottrina nel criterio quantitativo, cioè le contravvenzioni sono un attacco più moderato ai beni giuridici rispetto ai delitti, tale per cui sono più leggeri nelle pene dei delitti molto spesso perché ci sono delle eccessioni e soprattutto le contravvenzioni hanno a livello di pene delle pene diverse, cioè se andiamo a vedere l'articolo 17 che elenca i tipi di pene, ci dice che per i delitti c'è l'ergastolo, la reclusione e la multa, mentre per le contravvenzioni l'arresto e l'ammenda, che sono nettamente più leggere. Sotto questo punto di vista perciò si apprezza la vera differenza tra delitti e contravvenzioni, cioè nella differenza di punibilità. Per quanto riguarda invece altre differenze, si possono apprezzare anche dal punto di vista dell'elemento soggettivo, dato che l'elemento soggettivo delle contravvenzioni non distingue tra dolo e colpa. Una contravvenzione è punibile tranquillamente o per dolo o per colpa, mentre invece per i delitti ci deve essere sempre il dolo e nel caso in cui non ci sia il dolo il delitto deve essere espresso nella sua forma colpevole, altrimenti non è punibile. non è punibile il furto colposo se non esiste appunto la fattispecie colposa di furto. Quindi c'è da vedere se è presente appunto la fattispecie colposa per punire un delitto in forma colposa, per le contravvenzioni invece è indifferente. Poi per quanto riguarda la differenza, questo era tutto, il soggetto attivo del reato. Il soggetto attivo del reato è l'aggressore del bene giuridico e può essere colui che ha capacità penale, cioè che è capace a delinquere, ovvero che sia imputabile, quindi possa percepire la pena e che non abbia alcuna immunità. In questo caso si può parlare di capacità penale, cioè lì si può scrivere un reato. Il titolo dell'aggressore può far mutare, quindi la qualifica dell'aggressore può far mutare il titolo al reato, trattandosi quindi di incesto nel momento in cui l'aggressore la sfera sessuale è il fratello e viceversa, quindi la qualifica di uno dei rei può far comunque degli aggressori può far mutare il titolo di reato. Qui si tratta della differenza tra il reato comune e il reato proprio. Il reato comune è quello che può essere fatto da chiunque, come l'omicidio, mentre il reato proprio è quello per cui il legislatore richiede delle qualifiche specifiche. Le personalità giuridiche invece, sotto le contravenzioni poi esistono gli illeciti amministrativi, che sono degli illeciti che hanno carattere amministrativo, che quindi non hanno molto a che fare con il diritto penale, sono molto simili, ma il potere è quello amministrativo, quindi con regole diverse. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, per le persone giuridiche si era discusso molto se queste potessero avere societas, delinquere potest, possono essere soggetti imputabili, cioè possono essere soggetti che possono subire un rimprovero. Parte della dottrina era favorevole individuando la pena in una pena pecuniaria, altra parte della dottrina invece era sfavorevole, sul rilievo che l'articolo 27 della Costituzione parla di responsabilità penale personale, quindi non è possibile che l'ente risponda ai fatti commessi da una persona, che è un amministratore, che quindi non è essa stessa l'ente. A questo si è opposta la teoria organicistica, per cui l'organo è espressione dell'ente, ma se si crede ad un principio di colpevolezza all'interno dell'ordinamento individuato nell'articolo 27 prima e terzo comma, combinato e disposto, così come l'ha rilevato anche la Corte Costituzionale con la sentenza dell'80, 28 non si può negare che c'è un problema insormontabile, l'ente giuridico non ha colpevolezza, non manca l'elemento soggettivo e quindi la società, se il nostro ordinamento, delinquere non potest. Tutto al più il decreto legislativo 231 del 2001 ha creato una forma di responsabilità ad hoc, che è una responsabilità di natura amministrativa, responsabilità degli enti per gli illiciti amministrativi dipendenti da reato. Quindi è una responsabilità di natura amministrativa, ma la stessa Corte di Cassazione ha negato la natura amministrativa di questo tipo di sanzioni, dicendo che il legislatore le chiama sanzioni amministrative, ma in realtà sono penali, perché vengono gestite all'interno di un processo penale secondo le regole penalistiche. Di conseguenza la Cassazione ha chiamato questo tipo di atteggiamento del legislatore frode dell'etichetta. Il modello del 2001, appunto, per avere responsabilità, afferma che ci debbano essere alcuni elementi, come prima di tutto il decreto si applica sia a chi abbia personalità giuridica che non. L'autore del reato deve essere un autore fisico, in rapporto con l'ente, e l'ente deve avere interesse nel reato che è stato commesso. ci deve essere colpevolezza, ma la colpevolezza è sui generi, cioè è una forma di colpevolezza che ha individuato il legislatore proprio nel momento in cui ha scritto il decreto, cioè una colpevolezza per l'organizzazione, ovvero la policy dell'azienda, il reato non deve essere l'espressione della politica aziendale, della policy. Quindi se, per esempio, la policy permetteva questo tipo di comportamenti, allora c'è un elemento di colpevolezza che è appunto la colpa di organizzazione. Quindi la lente, dal fatto suo, deve dimostrare in tutti i modi di aver predisposto sia a livello di policy che a livello di controlli tutto il possibile per non commettere il reato. E poi è autonoma la responsabilità dell'ente rispetto al reato, quindi se il reato venisse meno per qualche altra causa, comunque rimanerebbe in piedi la responsabilità dell'ente, nonché, ultima cosa, la responsabilità dell'ente si può avere solo per i reati che ha previsto il 231 del 2001, cioè quei reati che il legislatore espressamente dice che sono punibili con la responsabilità dell'ente giuridico. Altro problema in ambito di enti collettivi, la delega. Molto spesso all'interno di enti collettivi c'è la prassi di delegare per migliorare ed rendere più efficiente il tempo l'adempimento di obblighi. La delega di per sé può avere rilevanza penale, sicuramente c'è un ambito civilistico, in ambito penale si discute su come debba essere eseguita per avere rilevanza. Prima del 2008 la giurisprudenza iniziò ad individuare nella delega un momento in cui si potesse cedere la responsabilità ad un altro soggetto solo con alcuni requisiti, cioè l'azienda doveva essere di grosse dimensioni la ripartizione delle responsabilità non doveva essere fraudolenta, quindi non doveva essere fatta ad hoc per eliminare la responsabilità del delegante e poi siano affidati al delegato mezzi poteri necessari per seguire i compiti dal delegante affidati. Con questo effetto, pre 2008, la delega aveva efficacia anche penalistica. Il problema era che era troppo a favore dell'imprenditore. E allora, sempre ancora prima del 2008, la dottrina e la giurisprudenza rifugiarono nell'articolo 40 capoverso, cioè comunque sia nonostante la delega vale il fatto che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, qui vale a cagionarlo, quindi ci devono essere doveri di controllo e obblighi di vigilanza sul delegante, nonostante ci sia la delega. E questa volta, invece, la delega risultava schizzare troppo verso il lavoratore, era troppo protettiva per il lavoratore, era un istituto che non riusciva a svolgere le sue funzioni se continuava ad essere concepito in questo modo. Così interviene il decreto legislativo 81 del 2008. Decreto legislativo 81 del 2008, che è un decreto legislativo che ci dice che la delega ha rilevanza penale solamente, non so che articolo è, una delega ha rilevanza penale solamente con alcune condizioni molto simili a quelle pre-2008, individuale dalla prima dottrina, cioè non deve avere carattere fraudolente o risulti d'atto scritto con data certa, deve essere attribuita a persona tecnicamente competente, deve avere il delegato un'autonomia di spesa per compiere i suoi obblighi. E, comunque sia, non si è escluso che ci sia un obbligo di vigilanza sul soggetto delegante. Poi, enti collettivi, tutto questo. Il soggetto passivo del reato è il titolare del bene protetto, quindi non la persona offesa, non il danneggiato, ma il titolare del bene protetto, quindi, per esempio, nell'assicurazione, una froda alle assicurazioni, nonostante si sia tagliato le gambe, il soggetto ha il titolare del bene protetto e l'assicurazione, quindi non coincide con la vittima, la definizione. E la qualifica del soggetto passivo fa mutare il titolo del reato, anche qui l'incesto, eccetera, eccetera. Poi, esistono reati anche senza vittima, e questo è naturale, come reati ostativi, di mera condotta, eccetera, eccetera. E poi, l'analisi della struttura del reato. Allora, il reato è un fatto umano che però ha alcuni elementi caratterizzanti. La dottrina è divisa su quali siano gli elementi necessari per individuare un reato. Nella dottrina bipartita, che pensi che il fatto umano deve essere semplicemente ricollegabile ad una fattispecie oggettiva e poi che ci sia il dolo o colpa, oppure c'è la dottrina tripartita, quindi concezione tripartita del reato, che aggiunge anche l'antigiuridità. Quindi è un fatto, il reato umano, tipico, antigiuridico e colpevole, che è anche l'iterologico che svolge il giudice. Quindi c'è un fatto tipico? Sì. Questo fatto tipico è annullato da una causa di giustificazione? Giustificazione? No. E allora è colpevole? Sì. No. Nel caso in cui tutti e tre gli elementi sussistano c'è il reato, dove i termini hanno tutti quanti un significato proprio, un fatto tipico, si intende appunto il complesso degli elementi che delineano il reato, il principio di legalità, il principio di tipicità, quindi anche il principio di frammentarietà. Come abbiamo già espressi, l'antigiuridicità invece riguarda tutto l'ordinamento, cioè che ci sia proprio un'assenza di cause di giustificazione riguardo a tutto l'ordinamento, perché le cause di giustificazione non hanno solo una disciplina penale e poi questo è un requisito oggettivo, cioè ci devono essere cause di giustificazione in senso oggettivo, non c'è niente di soggettivo da accertare. Proprio perché non appartengono al mondo penale manca il divieto di analogia qui e manca la riserva di legge. Proprio dal carattere non penalistico. E poi la colpevolezza riconosciuta anche dalla sentenza 364 dell'88 della Corte Costituzionale, ci devono essere coefficienti soggettivi in ogni caso, è il fondamento individuabile nel combinato risposto dell'articolo 27, primo e terzo com, e basta. Quindi questi sono i tre elementi.